Torniamo insieme in diretta, come abbiamo detto dunque all'inizio della nostra trasmissione. Questa mattina vogliamo aprire una finestra su uno dei servizi più importanti del nostro Paese, il Servizio Civile Universale. E allora questa mattina voglio dare il benvenuto al Presidente del Forum Nazionale del Servizio Civile, il Dottor Maria Borrelli, perché con il Dottor Borrelli parleremo di argomenti molto interessanti legati a questa importante istituzione del nostro Paese. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Ok, allora abbiamo un leggero ritardo credo tra l'audio e il video, però speriamo insomma di riuscire a realizzare la nostra chiacchierata con il Dottor Borrelli perché io partirei un po' da quelli che sono i risultati dell'Assemblea Generale del Forum Nazionale del Servizio Civile che si è riunita a Roma nei giorni scorsi, dalla quale è emersa una crescita importante di questa istituzione del nostro Paese. E allora, Dottor Borrelli, Presidente Borrelli, io le chiederei un po' di commentare questi risultati magari dandoci anche qualche numero, perché lei ha definito questo strumento un fiore all'occhiello italiano. Beh, sì, il Servizio Civile è effettivamente una delle politiche nazionali più interessanti, lo è perché ce l'ha riconosciuto anche l'Europa, dobbiamo dirlo, è stato preso a modello da altri Paesi, dalla Francia in primis che ne ha fatto veramente una bandiera nazionale di questo servizio civic, Macron lo sostiene in ogni occasione pubblica, quindi possiamo dire che il nostro Servizio Civile che ha compiuto 50 anni nel 2022 è effettivamente una politica fiore all'occhiello. Da quando è stato riformato, quindi dopo la leva obbligatoria nel 2001 fino allo scorso anno, dobbiamo dire che il Servizio Civile è cresciuto, è cresciuto tantissimo, negli ultimi anni sono stati anni di record in termini di numeri, abbiamo bandito nel 2022 oltre 71 mila posti per giovani in Servizio Civile, nel 2021 erano 64 mila, nel 2020 erano 55 mila, quindi i posti a disposizione, che vuol dire le opportunità a disposizione dei giovani, crescono di anno in anno e chiaramente confidiamo che questo trend riesca a mantenersi anche perché il Servizio Civile si chiama universale in quanto l'ambizione della legge è per appunto quello di renderlo universalmente accessibile a tutti i giovani che vogliono farlo e ricordiamo che in Italia oggi sui 70 mila posti si è messi a bando nel 2022, comunque le domande dei giovani hanno superato le 110 mila istanze, che vuol dire che c'è ancora tanta domanda di partecipazione. Questo è innanzitutto il primo segnale di un istituto in crescita, ma cresce il Servizio Civile in realtà nell'attenzione della politica, del legislatore, dei governi, perché è stato inserito anni addietro come prima sperimentazione in garanzia giovani, quindi già individuato come strumento di attivazione dei NIT, ricordiamo tutti che è uno dei temi, diciamo parlando di giovani, più delicati, più urgenti. Fu utilizzato il Servizio Civile peraltro con risultati molto importanti, quindi ha dimostrato una sua efficacia anche da un punto di vista della riattivazione verso la formazione piuttosto che il mondo del lavoro da parte dei giovani. È stato inserito nel PNRR, quindi sia per sostenere le politiche di transizione ambientale ed ecologica che quelle digitali, quindi politiche se vogliamo non immediatamente accostabili al Servizio Civile. Fino a poco fa nessuno di noi avrebbe immaginato che il Servizio Civile poteva servire negli enti locali per potenziare la digitalizzazione dei servizi o magari per educare i cittadini, quelli più anziani, quelli ancora meno vicini all'utilizzo della tecnologia in un momento in cui l'identità digitale, l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione avviene in maniera digitale, quindi cose assolutamente importanti anche nella vita del singolo cittadino, beh il Servizio Civile va in quella direzione. Senta Presidente Borrelli, emerge in maniera molto chiara il fatto che il Servizio Civile non sia più una politica, diciamo così, tra virgolette, ma sia diventato davvero un sistema sussidiario a quello che poi deve essere il reclutamento dei giovani all'interno del mondo del lavoro. Io voglio dare un numero, 14 mila sono gli enti, tra gli enti pubblici e le organizzazioni del terzo settore che in qualche maniera hanno attivato un progetto di servizio civile, però c'è un rischio di cosiddetto burnout. Ecco, noi conosciamo il burnout derivato dal lavoro, dallo studio, eccetera, ma esiste anche un burnout di questo sistema che magari può essere portato ad un'esasperazione talmente tale che poi non riesce più in qualche modo a funzionare come si deve. Ecco, quello che voglio chiederle è in che maniera si può combattere questa che potremmo definire un anticipo di malattia, diciamo così. Sì, è vero, ma il burnout del nostro sistema ovviamente non avviene sul sistema in sé, in quanto non è un'entità esistente. Avviene esattamente, come diceva lei prima, sulle persone, sul lavoro. Se vogliamo anche sullo studio, un sistema in costante aggiornamento, poiché il servizio civile rappresenta nel suo essere un fiore all'occhiello, una politica di sussidiarietà speciale del nostro Paese. Lo è perché in realtà gli enti, a differenza di tutti gli altri contesti di politiche pubbliche sussidiarie in cui sono sostenuti dallo Stato con risorse economiche, chiaramente per fare le attività, immaginerà che tutti i progetti in ambito ambientale, le politiche sociali, vengono affidate chiaramente anche al terzo settore, ma vengono affidate ovviamente con le risorse economiche necessarie per portare avanti quel tipo di interventi. Il servizio civile rappresenta una specificità del nostro Paese, perché gli enti non sono sostenuti economicamente per portare avanti i loro progetti, non hanno sostegno economico per le sedi, le risorse umane, per le spese generali. Dico queste cose perché può sembrare, non appare dal di fuori e potrebbe sembrare scontato che in un Paese si determina un sistema di sussidiarietà in cui le organizzazioni si fanno carico di tutto l'aspetto di attuazione dei progetti e lo Stato, per sostenere il servizio civile, investe tutte le proprie risorse esclusivamente nel rimborso mensile che offriamo ai nostri giovani. Perché facciamo questo e quindi perché si rischia il burnout? Innanzitutto è una scelta che abbiamo fatto anche noi enti tanti anni fa, quello di devolvere tutte le risorse, il Fondo Nazionale e il Servizio Civile, ad aumentare il contingente di giovani. Quindi per offrire a più giovani nel nostro Paese l'opportunità di fare questa esperienza. Dall'altra parte invece, dicevo il rischio di burnout dipende dal fatto che è un sistema che in un qualche modo deve organizzarsi anche con tanta, tantissima spontaneità. Quindi molti sono i volontari, persone che in un qualche modo sono anche dedicate ad altre attività, hanno altri lavori perché non si lavora per il servizio civile, non ancora, non in maniera così stabile. Quindi fin tanto che avevamo un servizio civile attivato dallo Stato una volta all'anno, è chiaro che le organizzazioni potevano reggere quelle che sono le tempistiche, gli oneri, gli affanni, di un processo di selezione che è un concorso pubblico, quindi dura mesi, processi di progettazione che per organizzazioni che presentano 500 progetti l'anno, immaginerà, sono un affanno organizzativo enorme. E poi c'è la formazione di migliaia e migliaia e migliaia di giovani. Questo è un sistema che attivato una volta all'anno può offrire un determinato tipo di risposte, se come sta avvenendo adesso viene continuamente chiamato in causa per bandi speciali, politiche speciali, si parla oggi di bandi in agricoltura, bandi nello sport, probabilmente di prossimi appuntamenti sportivi come anche le Olimpiadi Invernali. Quindi un sistema continuamente chiamato in causa, beh, questo non è più un sistema di volontariato, diventa un corpo dello Stato che si attiva ovviamente in ogni esigenza politica, se non anche emergenziale, come avviene sempre in ogni occasione. Senta, Presidente, io vorrei fare un breve accenno anche alla questione della comunicazione, perché tante volte è un po' complicato, ecco, semplifichiamo, trovare dei bandi di servizio civile che possano coinvolgere una comunità, nello specifico comunque un ente particolare. È una delle, potremmo dire, mancanze, chiamiamola così, che è emersa nel corso dell'ultima assemblea nazionale. Secondo lei come si potrebbe sviluppare questo argomento della comunicazione, visto che ormai viviamo in un mondo talmente connesso che insomma sembra un po' anacronistico il fatto che manchi la comunicazione per una realtà così importante del nostro Paese. Guardi, lei ha ragione. Mi permetto di correggere solo il termine, non manca la comunicazione. La comunicazione sul servizio civile c'è, la fanno in particolare quasi esclusivamente tutti gli enti di servizio civile, perché quando vengono aperti i bandi per selezionare e reclutare i giovani, siamo noi organizzazioni a dialogare con i territori, organizzare eventi, fare chiaramente attività di comunicazione. Peraltro anche la copertura da un punto di vista mediatico, sui social, anche quindi in un qualche modo più praticati dai giovani, noi la effettuiamo. Il tema è, come lei immaginerà, quando si scorre una notizia che magari non è nota, quindi si parla di un bando di cui i giovani probabilmente ancora poco conoscono, quando la notizia non è magari immediatamente attrattiva o non si pubblicizzano gattini, come dicono gli esperti di comunicazione, è chiaro che quella notizia, per quanto sia presente nella comunicazione sociale e cross-mediatica, però non viene intercettata, o almeno non in misura sufficiente a determinare nel nostro Paese non tanto una partecipazione adeguata dei giovani, perché ancora l'abbiamo, quanto piuttosto un fenomeno di carattere culturale. Quello che noi chiediamo allo Stato, in particolare al Governo, è di potenziare una comunicazione istituzionale che faccia del servizio civile italiano quello che sono il corpo dei pompieri americani, facciano di questa occasione di impegno e di partecipazione per lo Stato un motivo anche di orgoglio personale del cittadino e della comunità, un motivo per riconoscere il merito a quelli che si impegnano nel servizio civile attraverso il servizio civile e nelle nostre comunità. Questa comunicazione che la si utilizza nel marketing, nelle operazioni commerciali è ciò che serve a determinare fascinosità, se vogliamo anche attrattività e identità attorno a questo istituto. Un giovane si sentirà parte dello Stato se lo Stato gli riconosce che nel momento del suo impegno nel servizio civile lui è un giovane meritevole. Questo è quello che ciascuno di noi desidera quando si impegna per la comunità, per il prossimo. Questo non possiamo farlo noi organizzazioni, noi piccoli enti, questa è una cosa che deve dire lo Stato, deve dare valore all'impegno dei giovani. Dottor Borrelli, l'ultima domanda, che più che una domanda vuole essere un flash, ecco, relativo ovviamente ai fondi che vengono assegnati. Poi per quanto riguarda l'espletamento delle vostre attività, lei ha citato il PNRR che ci auguriamo tutti possa andare in porto. Che cosa chiedete alle istituzioni in una battuta, visto che i prossimi anni insomma saranno complicati da questo punto di vista? Molto semplice. Negli ultimi tre anni abbiamo sostenuto il servizio civile grazie anche ai fondi del PNRR, che come sappiamo tutti con quest'anno terminano la loro funzione, la loro presenza, che vuol dire che il 2024 dovremo affrontarlo esclusivamente con risorse pubbliche, quindi tornare a quello che era prima del PNRR per il servizio civile. Chiediamo ovviamente al governo di sostenere ancora economicamente il servizio civile come fatto negli anni passati, ma soprattutto come siamo riusciti a fare negli ultimi anni di PNRR perché siamo arrivati a numeri importanti e il servizio civile ha dato risposte importanti al nostro paese. E allora ci auguriamo che dopo la pausa estiva, visto che si entrerà poi in quella che viene definita la sessione di bilancio, ecco, anche in vista dell'approvazione della prossima legge di bilancio, appunto la vecchia finanziaria, ecco, ci possano essere davvero attenzioni importanti nei confronti di questa realtà che stamattina abbiamo voluto raccontare con lei, dottor Borrelli, che ringrazio e saluto. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie, grazie al dottor Enrico Maria Borrelli, presidente del Forum Nazionale del Servizio Civile. Adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme.